E' calato il sipario sull'ottava edizione dell'Oscar dello Sport di Mazzara del Vallo. Migliaia di spettatori hanno assistito alla parata di stelle, protagonisti dello sport nazionale. L'evento, promosso dalla Comune e organizzato dal Centro Studi Padre Gaspare Morello e coordinato da Sabrina Caradonna e Cristina Barbato, ha segnato 20 premi. Sul palco della magnifica piazza della Repubblica di Mazzara del Vallo sono stati premiati quali dirigenti sportivi dell'anno, Michele Uva, direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio, Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva, Pietro Basciano, presidente della Lega Nazionale di Palacanestro, Sandro Morgana, vicepresidente della LND. Per la sezione allenatoria Gianni De Biasi, per gli atleti al pluricampione di basket Gregor Fucca, Beppe Baresi, bandiera dell'Inter, Sergio Brio, storico stopper della Juventus. Per la sezione arbitri a Paolo Casarin, Rosario Lobello alla carriera e ai neopromossi di Serie A Rosario Abisso e Serie B Luigi Pillitteri. Per la sezione sport paralimpici, Oscar ad Antonino Lisotta a tiro con l'arco, Maurizio Romeo, atletica leggera. Un riconoscimento paralimpico è andato al piccolo Daniele Pomiglia, al quale il pubblico ha dedicato una standing ovation. L'alfiere dello sport quest'anno è stato assegnato al magistrato Matteo Frasca, presidente della Corte d'Appello di Palermo per la sezione riconoscimenti, a personaggi che si sono distinti per l'impegno profuso a favore dei valori della legalità e della solidarietà. Sono stati Giuseppe Gualtieri, questore di Catania, Mario Conte, consigliere della Corte d'Appello di Palermo, ed ancora gli atleti Anna Maria Spina e Pino Pomiglia. Soddisfazione è stata espressa per il risultato conseguito dal sindaco Nicola Cristaldi e dall'ideatore del premio Pietro Ingargiola. Adesso Mazzara del Vallo, capitale multietnica della solidarietà, pensa alla prossima edizione dell'Oscar dello Sport, quella del 2018.